La gente che mi odia o che mi critica o che vuole ferirmi è la mia più grande fonte di ispirazione L'altro giorno ho avuto la possibilità di avere un piccolo confronto scontro con Dorian ma tramite social che poi vorrò approfondire tramite un chiarimento di persona ma oggi non parlerò di lui, introduco parlando di lui perché discutendo con lui viene fuori che se fai tante views un video automaticamente è bello se ti guardano molte persone vuol dire che piace volevo spiegare bene questa cosa perché mi permetto di dissentire innanzitutto non bisogna opprimere ogni cosa al concetto di numeri perché uno può avere pochi numeri anche perché è una nicchia uno può avere pochi numeri perché sceglie di creare una cosa non conforme alle masse magari scopriamo che pomeriggio 5 ha più utenti di super quark questo non rende super quark un programma meno bello di pomeriggio 5 sempre pomeriggio 5 bello tra virgolette quindi questo è lo stesso esempio un moratore che guadagna meno di un avvocato non ha meno dignità il concetto del numero, avere un numero superiore e manifestarlo come forma di insicurezza io faccio più viosi di te, io guadagno più di te è una cosa patetica di questo argomento per quanto concerne Dorian ne vorrò parlare di persone spero anche in un video proprio con lui presente ma oggi approfondisco questo concetto trovo patetico questo discorso e mi preme tantissimo affrontarlo solitamente su Revolution faccio i video solo quando me la sento quando sono davvero ispirato e in questo caso lo sono davvero perché non sopporto questi ragionamenti non sopporto questo modo di fare intanto ogni youtuber può portare solo un certo tot di visibilità a un altro cioè se io vengo sponsorizzato da un canale come Dario Moccia ci sarà più possibilità di avere numeri rispetto a un canale che fa totalmente l'opposto che ne so, un canale che tratta Squishy una mia carissima amica, Corinne Mantineo che tratta LOL Surprise, queste cose collaborando con lei, anche se lei ha 300.000 iscritti difficile che lei mi porti tanto pubblico ma non perché lei non sia brava non perché lei non faccia il suo onesto lavoro su YouTube e non perché lei non abbia seguito ma perché il suo pubblico che saranno le bambine, le ragazzine dai 5 ai 14 anni non possono essere il mio pubblico che è una fascia 18-24 addirittura a volte 24-35 questo ragionamento vorrei che vi fosse chiaro perché tante volte tantissime persone se ne escono ma quello fa più ovvio di te quindi è meglio di te no, veramente no magari ha puntato su un genere virale per analizzare ad esempio i video che fa Dorian ma come altri che magari lo fanno il titolo magari è virale magari stai facendo un video sul trend del momento magari stai facendo un video sulla tendenza che in quel momento impazza che possono essere i me contro te quello che anche io quando faccio video parlando dei me contro te faccio views ed è una cosa assurda perché mi chiedo come può muovere come possono muovere tutta quella mole di gente quindi il punto è questa volta veramente alzo le mani non è per attaccare qualcuno però è giusto esplicitare questa cosa anche perché in questo canale di qualcosa dobbiamo parlare ogni tanto quando credo che si possa tirare fuori un'argomentazione costruttiva facciamolo e dico perché il numero deve determinare la qualità di un prodotto non è così è chiaro che nelle leggi del mercato un prodotto più a numero più è vendibile più è finanziato più è portato avanti ma questo capita anche con i programmi trash e scadenti pomeriggio 5 sarà sempre in tv tantissimi programmi della televisione che noi consideriamo banali continueranno a esistere perché c'è un pubblico di massa che li guarda il grande fratello non è di certo il programma più istruttivo ed educativo è bello che ci sia come uomini e donne ma continuerà ad esserci perché ha un pubblico di massa questo non vuol dire che è un bel prodotto ma vuol dire che punta magari all'ignoranza della gente alle masse e sinceramente mi scuso ma io non sono fatto per questi contenuti nel mio primo canale anche in questo c'è cerco di fare qualcosa di intelligente nel mio primo canale faccio le interviste che a volte è più lo sforzo che il guadagno però sapete qui lo dico e lo ribadirò forse poche volte a me interessa rimanere anche nella storia delle cose il primo che ha intervistato quei personaggi lì il primo che ha raccontato la storia di come è nato il doppiaggio nei videogiochi il primo che si è preso la briga di creare un dossier video con delle interviste di altissima qualità di personaggi che tutti avrebbero voluto intervistare ma pochi sono riusciti a farlo la morale è che tutti dovremmo fare ciò che ci sentiamo facendo anche un compromesso alle volte ma fare troppi compromessi con la propria intelligenza con i contenuti che possiamo portare se solo scegliamo di amare quello che facciamo una cosa migliore e superiore io personalmente non riuscirei a fare video solo seguendo la tendenza io capisco che per alcuni youtube è anche un modo di campare quindi devono stare appresso alla tendenza devono trovare sempre un nemico da combattere qualcuno da criticare o una tendenza di cui parlare però al di là del soldo c'è anche fare le cose bene e ce lo insegnano canali come Cotto e Frollato ce lo insegnano tantissimi canali davvero Dorian a parte e altri canali come lui vorrei una youtube dove la gente avesse più il coraggio di fare le cose che vuole fare con la giusta qualità perché purtroppo alcuni per paura si riducono a fare i gameplay pensando che andranno avanti vedo quelli che hanno cominciato con fortnite che ora non sta andando più ma loro non riescono a uscire da quel circolo perché hanno paura che se non fanno fortnite avranno ancora meno views abbiate il coraggio di fare le cose belle davvero le cose che la vostra intelligenza vi suggerisce vi invito a recuperare i video sul primo canale appunto le interviste spero al più presto di avere questo suddetto chiarimento così potrò discutere con lui di questi punti credo sia tutto fatemi sapere la vostra cosa ne pensate dei numeri cosa ne pensate di cosa voglia dire fare più o meno numeri se effettivamente un canale se fa pochi numeri è un brutto canale o magari è solo un canale di nicchia o magari è solo un canale che aspetta di essere scoperto da un canale che fa la sua stessa cosa ma a livelli più alti ma non succede perché la gente non condivide non tende la mano ci sono tante troppe dinamiche e nel frattempo mentre noi ci facciamo queste pippe i canali che sfruttano la tendenza fanno un milione di views e ci dicono e noi siamo meglio perché facciamo tante views e noi rimaniamo così tipo al prossimo video e noi rimaniamo così e noi rimaniamo così